Una bella compilation con tutte le eliminazioni dei primi... Prova a non ridere! Ci sarà da ridere? Eh no, eh non puoi, scusa, eh? Aspiratore condominiale Sarame Ascizzore condominiale Frigorifero Condominiale Frigorifero Pippotto d'acqua A volte anche io La vita è come una scatola Scatta i fulmini Un uomo entra in un caffè Un caffè, grazie Un uomo entra in una mucca Dal culo Un uomo entra in una mucca Un caffè, grazie Ma è del liquido bianco in viso Mi succede spesso a volte mi si appannano gli occhiali il shampoo usi? panna libe oddio si vede no ma quando voi vi fate il video la farangetta del dito quanto? dopo mi faccio le coccole, dopo vado con la coccole bidone tanto ne ho 10 se non ti lecchi le dita non avevo mai notato che avevi gli occhi azzurri forse perchè mi guardi sempre il culo buona fortuna ogni tanto faccio i pepini col culo definisci ogni tanto ogni domenica come vorrei che fosse domenica mi ricordo ancora quella volta quando un maiale si è lanciato dal tredicesimo piano è morto sai come fai no come a capire se tua sorella c'ha il mestruo ieri ho comprato una bicicletta con le ruote col sellino con vaselino se vuoi salvare alessandro manda un messaggio AORA SUBITO AORA SUBITO inaspettata questa cosa chiama il 344 84 e basta no vai via di là andate via non ridete oh domani cosa vuoi fare? eh voglio andare a comprare degli occhiali e poi? eh poi vedremo ci sono due pesci in mezzo al mare come funziona qua? fare l'amore eh vieni a chiedere a me che sono il pesci in segno c'è uno che va dal dottore e dice dottore ho un problema un grosso problema ho una palla più grossa di un'altra eh ma non c'è nessun problema mi faccio vedere eh sì ma se le faccio vedere la palla poi dopo lei si mette a ridere ma non mi metto a ridere sono un professionista va bene le faccio vedere la palla BOOM le mette la palla sul tavolo e il dottore lo sapevo adesso non le faccio vedere quella più grossa comunque sono ancora triste è morto il mio nome stavo giocando a poker con i suoi amici collasso il giorno dopo è morta anche mia nonna e ancora non ci posso credere stavo mangiando tranquilla una bistecca è proprio vero che le volte basta un secondo ok ho fatto! come dai è giocato! 3 2 3 2 1 vai aiuto 3 2 1 Tengo il dolore in un cuore Questa è una bastarda Sono sedermi qua Tengo il dolore in un cuore Prego, grazie Come mai ti sei sentito qua? Dice una balena Parco? 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 Parco?